Passo l'abinetto, partiamo da qua, partiamo da qua, partite proprio da qua, lo sposto bene per passare, e subito, quando sgancio il pugno, faccio quello, subito e insomma, quando voglio cascare, faccio un po' più parco, un po' più parco, cambio, faccio questo, ok? C'è, Spannroe, riposare, fai, dei trenti, partiti, dei battiti, fai, volley, piedi, compagni e fai, ok, faccio anche il cambio oppresso, mi è lontano un po' oppresso, mi è lontano un po' a un certo punto al posto di tirare un mincio tirare un pugno circolare ok quindi devo sempre tornare il vomito quando faccio esercizio controllo il vomito e quando lo apre so che lui parte un pugno semisengolare quindi iniziate a fare due poi iniziate un po' 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 un po'